769 milioni stanziati per il piano asilinido gratis. Al mezzogiorno tuttavia vanno le briciole, soltanto il 24% della somma totale, e quanto emerge da il mattino. Nello specifico 520 milioni per inidi gratis saranno gestiti dal ministro della famiglia Elena Bonetti e inevitabilmente andranno di più al nord perché lì sono i servizi e quindi lì bisogna concentrare i bonus. In base ai posti disponibili si può stimare che il sud si debba accontentare di un misero 17%. L'altro tesoretto da 249 milioni dovrebbe essere destinato soprattutto al sud perché gli asilinido vanno costruiti dove mancano. Il ministero responsabile in questo caso è quello dell'istruzione e Lorenzo Fioramonti ha appena consegnato un'ipotesi di riparto ai comuni per quanto riguarda i fondi 2019 da spendere l'anno successivo. Il mezzogiorno avrebbe dovuto fare la parte del leone e invece la sua quota è il 37%, ovvero un minuscolo incremento rispetto al 34% di base. Come sia possibile una situazione del genere ce lo spiegano gli esperti. Tale fondo è nato nel 2017 e valeva 209 milioni. In sede di primo riparto i comuni e le regioni del nord riuscirono a far pesare come parametro principale gli iscritti agli asilinido, quindi premiando chi aveva di più. Fioramonti ha confermato il riparto dei 209 milioni e ha limitato la per equazione ai 40 milioni aggiuntivi di quest'anno. Se i riparti finali saranno questi, il mezzogiorno avrà 92 milioni sui 520 per i nidi gratis e 92 milioni su 249 per costruire i nidi dove mancano. Il totale fa 184 milioni su 769, ovvero il 24%. tre limioni sui 95 milioni sui 60 milioni sui 95 centero. Donate l'idea del tutto, troppo!